io non ce la posso fa io non ce la posso fa pure l'ultimi giorni dell'anno me dovete fa bestemmia non è possibile fa una partita del genere non è possibile cominciare in quel modo con quell'atteggiamento con quelle situazioni con quelle occasioni e poi alla prima difficoltà dormi in piedi ti addormenti ma come ve lo devo di che le partite durano 90 minuti ma perché ogni cazzo di volta un tifoso della roma deve vedere tutto il contrario di tutto perché ce dovete dalla caramella e quando stavo passa gialla ce la levate dalla bocca porca puttana porca puttana te la stavi a giocare contro i secondi della classe per una buona parte della partita te la sei giocata alla pari addirittura ripensando al primo tempo fossi passato un vantaggio nessuno avrebbe potuto dire nulla voi mi dovete spiegare come cazzo è possibile una disattenzione del cazzo una disattenzione di merda subisci il gol e sparisci completamente dal campo mi rode il culo in una maniera che non potete capire è assurdo regà è assurdo è assurdo l'hai fatti riavvicinare all'inter questi adesso stanno a meno due e il rammarico è doppio proprio per sto motivo perché dico cazzo siamo sempre bistrattati da tutti ci trattano tutti come l'ultimi stronzi arrivati che in sobbogna gioca a pallone che non sanno creare occasioni che sanno creare situazioni e i problemi è una cosa in altra e alla fine comunque comunque te la giochi all'altezza una partita del genere santo dio eh non ho parole non ho parole ragazzi ma veramente non ho parole perché poi ripenso a tutto quello che è successo per me avessi vinto sta ripensando al primo tempo fossi riuscito a passare in vantaggio e avessi vinto sta partita nessuno avrebbe potuto dire nulla perché poi non c'è stata manifesta superiorità da parte della juventus da parte dei bianconeri che per carità ci hanno avuto le loro occasioni importanti io vi arrivo a dire poi guardando ovviamente ritorno al concetto che le partite durano 90 minuti che per quello che abbiamo visto nel complesso hanno meritato di vincere perché per quanto secondo me stavano facendo meno bene di noi nel primo tempo nel secondo tempo sono saliti in cattedra e io veramente non capisco chi continua a criticare un allenatore come allegri che riesce a vincere partite così difficili partite di questo tipo io voglio sapere qua sotto nei commenti da un tifoso della juventus guardando il primo tempo vi aspettavate ipoteticamente di poterla perdere questa partita vi aspettavate che avremmo potuto avere la possibilità di passare in vantaggio pensando poi no al secondo tempo no a come potevamo aggredire la juventus dal punto di vista fisico dal punto di vista psicologico cercare di approfittare di quel primo tempo secondo me più a nostro favore che vostro seppur anche voi nel primo tempo le vostre occasioni importanti ce le avete ce le avete avute alla fine però ragazzi alla fine in un modo o nell'altro l'inerzia della partita cambia perché succede la cosa più importante te porti in vantaggio non dico nel momento più di difficoltà dei bianconeri però che poteva diventare un momento di difficoltà sempre visto come stavamo stavamo giocando all'inizio lukaku ragazzi io veramente non dicessi ti bala lukaku te danno quel qualcosa in più io stasera lukaku non sapevo di essere in campo proprio se dovessi dare un titolo oggi non un voto ma un titolo a romelu lukaku sarebbe non sapevo di essere in campo per me avrà toccato tre palloni anzi due palle e sue perché per quanto poi di bala ha provato a mettergli i palloni ma ragazzi oggi veramente riguardatevi attentamente la partita di lukaku io poi a un certo punto ho cominciato a faccia caso cominciato a dire ma quanti palloni sta a toccar questo ma quanto sta a far salire la squadra sta a far salire sì non palla al piede perché saliva lui dal punto di vista proprio fisico del termine da quel punto di vista siamo stati completamente annullati gestiti e controllati però la devo analizzare nel complesso la partita io non posso essere so incazzato meno del culo per la sconfitta perché pensavo dico vabbè morre agiranno siamo passati in svantaggio ma per quello che abbiamo visto nel primo tempo sicuramente no faremo quel qualcosa in più che cazzo uscirà fuori sto cazzo di uno a uno non avrei bestemmiato in caso di un di un pareggio perché pur sempre contro la juventus i secondi della classe in casa loro no e c'è rammarico c'è rammarico alla fine c'è rammarico perché ribadisco dicevo la juventus t'ha fatto una capoccia così c'hai capito un cazzo alla fine hanno vinto solo 1 a 0 non puoi di niente abbassi la capoccia e te ne ritorni a casa il rammarico c'è perché dimostri sempre di poterci essere no ma a te te manca sempre il centesimo per fare l'euro quel centesimo che sarà sempre decisivo per fare qualcosa di decente nella vita nel tuo campionato di serie a poi entrerò nei meriti farò il pagellone sfogo ovviamente perché credo che sia assolutamente d'obbligo mi devo sfocare anche nei singoli nelle prestazioni che abbiamo visto è inutile dire che il nostro faro ragazzi la nostra luce è paolo di bala che oggi stava a mezzo servizio perché non c'aveva neanche i 90 minuti nelle gambe e parte tutto da lui si accende lui ragazzi è lui che te dà la qualità è lui che te dà il gioco è lui che te dà le verticalizzazioni è lui che spazia su tutto il fronte offensivo e cerca di creare pericoli continui merote il culo perché l'atteggiamento che avevamo messo nel primo tempo il palo di cristante l'ha pure la sfortuna ragazzi perché dice no non avesse toccato il giocatore della juve probabilmente scesni l'avrebbe parata non lo sapremo mai è inutile che no perché coi secco ma non si va da nessuna parte la deviazione è la palla che si stampa perfettamente sul palo la prendi consapevolezza e cominci a giocare per me hai cominciato a giocare abbiamo dal punto di vista della gestione del possesso della palla dal punto di vista delle situazioni che abbiamo creato nel primo tempo siamo stati superiori ai bianconeri quella situazione di paolo di bala quel sinistro esterno che esce fuori poco qualcuno ha detto no scesni era in perfetto controllo non ci sarebbe mai arrivato per quanto poi quell'occasione di vlaovic che salta iorente seppur l'ha tenuto penacoscia praticamente alla fine lo salta arriva mancini che mura tutto quanto quella è un'occasione pericolosa nessuno lo mette in dubbio quel salvataggio da indicare sulla linea per carità non dico assolutamente niente situazione pericolosissima una delle più pericolose della partita quindi al detto delle occasioni insomma due occasioni per per parte è equilibrio da quel punto da quel punto di vista ma secondo me meglio la roma dal punto di vista della fluidità anche del gioco di quello che abbiamo che abbiamo proposto la differenza è che loro passano un vantaggio un rimpallo anche ragazzi la sfortuna di quel rimpallo te trovi completamente sbucciato dal punto di vista difensivo e loro che che questo è bravo vlaovic a servire costi c'è freddo costi c'ha a segnare in quel modo a lui patricio ma io pretendo e la me incazzo perché io pretendo la reazione e quello che avevi fatto vedere non te puoi fanti morì ero pure convinto dentro di me ero convinto di come questi segnano hanno segnato non segniamo manco con le mani andremo a scendere di prestazione ci andremo a nascondere con la capoccia sotto la sabbia perché la juventus è brava a difendese perché per quanto te lasceranno il possesso della palla lukaku non sta strusciando mezzo pallone manco quando stavi a giocare bene figurate se riesci a buttar dentro la palla in rete hai smesso di giocare hai smesso di creare e praticamente regala juventus ha aspettato la fine della partita per portarsela a casa questa è la cosa che mi fa incazzare perché se siamo una squadra io voglio vedere la reazione non mi basta la prestazione dei 40 minuti e di come a tre uomini e una gamba dice dice il colpo di reni pam e quello così e quell'altro dice come come cazzo hai fatta fino a perde 10 a 3 le partite durano 90 minuti non ce la faccio più manco a parlare non ce la faccio più non c'ho manco più l'acqua perché sono influenzato ragazzi non sto neanche bene ed è questa la cosa che più mi fa incazzare questa è la cosa che mi lascia più rammarico ma tutti gli anni tutti gli animo murigno non murigno lo dicevo quando c'era fonseca lo dicevo quando c'era di francesco l'ho detto per qualsiasi allenatore su youtube e lo dicevo tra me e me quando non facevo lo youtuber ci manca sempre centesimo peffa all'euro la roma è una squadra che fino a un certo punto ce sta e poi se scioglie in un bicchier d'acqua questa cosa mi fa veramente rosicare girare il cazzo e vaffanculo eh